Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale, io manco da un po', sono circa tre settimane non so neanche se sono più in grado di girare un video, soprattutto un get ready with me comunque oggi andremo a fare proprio questo, cercherò di rimettermi un po' in sesto anche perché non sto bene sono due giorni, tre giorni, che ho l'influenza, oggi mi sono un po' costretta a girare perché mi sento in colpa ho un sacco di cose da farvi vedere, video da fare, soprattutto get ready with me, scusate ho peli di animali aspiccicate dovunque, quindi saltare anche questo giorno mi sentivo in colpa, tutto qua e inizierei dalla vega di Lisa Eldridge, questa mini mini palettina, contate che la mia mano è veramente piccola a proposito, scusate le unghie ma veramente in questi giorni, cioè sono stata piena di roba da fare poi appena ho avuto un attimo per rilassarmi mi è venuta l'influenza quindi già tanto che mi sono lavata i capelli ieri sera, sono quasi reinata vabbò, lasciamo stare, sto parlando già troppo, comunque vi farò vedere poche cose questa palettina, il blush di Hermes Beauty e poi pensavo anche ai prodotti labbra sempre di Lisa Eldridge che ho preso nell'ultimo haul, cioè il retossetto sorcery e la matita sorcery bom, perché sennò questo video conoscendomi diventa interminabile comunque queste palettine sono delle palette refillabili, infatti se notate qua dietro c'hanno i buchetti per scambiare le cialde, il packaging ricorda tantissimo, me lo sono messo qua, scusate ricorda tantissimo quello del fondotinta di cui io continuo a tenere la scatola eccolo qua, che era stato ripreso da uno scultore che fa queste opere d'arte con queste forme affusolate, rotondeggianti, che evidentemente piace molto a Lisa Eldridge non mi ricordo assolutamente il nome, e questa è la Vega, questa è quella dai toni più neutrofreddi esistono mi pare sei colorazioni, io ho questa e poi la sorcery, quella dei toni verdi anche la Myth, scusate ci sono peli di animali che volano, anche la Myth mi ispira però in quella ho visto che ci sono shimmer che shimmerano un po' meno quindi l'ho lasciata per il momento da parte, le altre colorazioni sono tutti colori un po' troppo caldi per me o che comunque ricordano tanto palette che io già ho, ad esempio quelle di Charlotte Tilbury quindi quelle non mi interessano, comunque sono appunto palette refillabili c'è lo specchio qua, però c'è un ma, nel senso è vero, è possibile acquistare le singole cialde che comunque costano parecchio, costano 14 euro l'una se non sbaglio però non è possibile acquistare il case a parte, quindi se si acquistano le cialde poi o lo si mette in palette magnetiche che si hanno già, se no, no cioè acquistare una palette poi cialde singole per scambiarci gli ombretti non lo vedo così comodo ecco questa è l'unica cosa che non ho capito e di cui anche molti si sono lamentati quando è uscita forse quando sono uscita e se fosse stato possibile acquistare anche il case mi sarei composta la mia palettina però non essendo così ho lasciato un po' perdere però ho visto recensioni stupende su questi ombretti quindi quando sono tornata in stock e ci hanno messo tanto, quasi un anno sia la Sorcery che questa, le ho prese alcune informazioni supplementari a queste palette sono made in Italy contengono 5,7 grammi di prodotto e mi pare che abbiano un pao di 36 mesi non riesco bene a leggerlo perché sono senza occhiali e poi oggi mi bruciano particolarmente gli occhi infatti non so quanto sia forma questa idea di truccarmi ma ne ho voglia e quindi questi ombretti quando sono usciti sono usciti con in totale 6 finish diversi il motivo per cui io avevo pensato di compormi una mia palette comunque due finish matte che sono il seamless matte che è il matte più tradizionale, più polveroso tra virgolette perché di polveroso hanno ben poco veramente sono meno polverosi delle polveri di Natasha Denonia anche al tatto sembrano quasi cremosi e poi i velvet che invece sono i matte cream to powder appunto in grado però di aderire perfettamente alla pelle e che hanno anche un finish blerrante ma allo stesso tempo coprente che si possono usare sia con le dita che con il pennello per quanto riguarda gli shimmer invece sono usciti 4 finish diversi che vanno dai meno luminosi ai più luminosi infatti ne esiste uno che è definito Satin Metallic con una luminosità soft altamente pigmentato ma con un finish liscio smooth senza glitter evidenti un altro finish di shimmer è quello Metallic che è appunto un metallico con qualche perlescenza che può andare da un wash of color oppure ad una pigmentazione più alta ciò dipende da come lo si applica poi c'è il finish lastre che invece è un finish perlato con un'alta percentuale di perle all'interno ma sono perle di piccole dimensioni anche questo infatti ha un finish smooth liscio scusate io sul finish liscio ma quella è la traduzione e infine c'è il finish top coat che è una texture con una base trasparente e con delle particelle luminose multicolore nella vega in particolare sono presenti una cialda nel finish velvet quindi il finish più cremoso che è questo Tortora gli altri tre matti il grigio, il nero e il marroncino invece sono nel finish seamless matt poi c'è questo shimmer che è nel finish satin metallic e questo qua che è nel finish luminous che è lo stesso che mi piace da morire presente nella Sorcery che dà quell'effetto stupendo bagnato multicrome ve lo faccio vedere eccolo qua lo stesso finish luminous solo che in questa palette questo qua è definito anche duochrome mentre nella vega no un'altra cosa che vi farò vedere oggi in azione sono i pennelli di Wengos sia del set viso che del set occhi non credo di comunque riuscirli ad usare tutti anche perché oggi farò veramente il minimo indispensabile visto che poi finirò a dormire dormicchiare e inizio a mettere il primer occhi di Tom Ford lo sapete non mi piace l'ho messo anche nei bocciati dopodiché lo devo finire ha un problema grosso di durata ma come performance degli ombretti appena messi va bene visto che appunto oggi si sta in casa e il trucco non mi deve durare granché mi accontento di lui è un primer cremoso quasi bagnato e infatti bisogna lasciarlo asciugare un pochino perché sennò può dare problemi nella stesura degli ombretti non ha una coprenza alta anzi al massimo che fa è tonalizzare la palpebra ma proprio poco mi sono un po' avvicinata così potete vedere la mia faccia in tutto il suo splendore comunque ho già fatto le sopracciglia sono brutte lo so ma non penso che avrò tempo di farle da Sephora prima di quest'estate sono messa così comunque per prima cosa vado a prendere questo colore qua che si chiama French Grey ed è un tortora chiaro neutro ed è appunto nella formula più cremosa e lo vado a prendere con questo pennello di Weingoss che è l'E3 i pennelli di Weingoss sono nominati così F per quelli per il viso e E per gli occhi questo è il pennello da sfumatura più grande vedete che ha una punta abbastanza pronunciata rispetto ad esempio ai pennelli di Refre e le setole rispetto a quelli di Refre sono setole più morbide infatti questi pennelli sono fatti con setole Saikoko che sono la via di mezzo nella morbidezza per quanto riguarda le setole di capra naturali mentre quelli di Refre i classici pennelli occhi sono fatti con setole Soko scusate i nomi non me li ricordo benissimo comunque sono quelle setole un po' più dure ecco rispetto a questi qua vedete come si sfuma da dio questo ombretto ne applico ancora un goccio la punta di questo pennello permette sì di sfumare ma di essere anche precisissimi anche se è un pennello grande e cosa che io trovo facile con questi pennelli di Gwingos è andare a tirare su l'occhio senza andare troppo qua sotto ed essere poco precisi in questo sono veramente stupendi e poi secondo me sfumano meglio di quelli di Refre però io devo anche farci la tara su quelli di Refre perché i miei lavandoli all'inizio con il sapone di Marsiglia sono diventati un po' più duretti e quindi i miei pennelli non fanno più così tanto testo sempre riferendomi a Refre poi vado a prendere il marrone più scuro e lo prendo con quest'altro pennello di Gwingos questo invece è le due è leggermente più piccolo e meno cicciotto delle tre eccoli qua confronto le tre è questo qua e le due è questo è meno cicciotto alla base e ha anche meno setole più fluffy e lui permette sia di sfumare che di essere precisi naturalmente più precisi delle tre ed è perfetto per definire ad esempio la piega oltre che per l'angolo esterno comunque vedete che questi ombretti non sono particolarmente pigmentati cioè sono sulla scia dei costruibili più che da una pigmentazione piena da subito poi naturalmente se ci fosse andata con un pennello da applicazione e non da sfumatura il risultato sarebbe stato più intenso io questa palettina l'ho usata solamente due giorni più per provare la durata degli shimmer che non altro e si sono comportati benissimo l'ho usata però con il primer mio solito di Nars quello di cui mi fido risfumo i bordi con le tre senza aggiungere colore magari da questa parte qua voglio fare qualcosa invece più sul grigio da questa parte qua provo ad applicare il colore sull'angolo esterno invece che con le due da sfumatura con un pennello più da applicazione anche perché il finish del marrone e del grigio è lo stesso poi vado semplicemente a prendere questo shimmer qua che è nel finish satin metallic ed è è un top freddo ed è nel finish moon's rule prova a metterlo col pennello questo è un pennello d'applicazione anche se è un satin metallic quindi uno degli ombretti meno luminosi degli shimmer che ha fatto uscire Lisa Eldridge ha comunque una bella luminosità ed è estremamente sottile questo pennello con cui ho applicato lo shimmer invece è l'E4 ed è un pennello appunto d'applicazione che volendo si può anche usare per il correttore oppure per sfumare leggermente i bordi io lo uso anche nella rima ciliare inferiore di solito oppure appunto per applicare gli ombretti più scuri all'angolo interno e questo sarebbe un look tranquillo da tutti i giorni un po' di matita un po' di mascara e via adesso però volevo provare ad intensificare l'angolo esterno con il nero utilizzando sempre le due cioè quello da sfumatura e ho già fatto questa cosa speriamo che oggi vada bene comunque a me il nero spaventa sempre soprattutto usato sfumato invece devo dire che con questo colore è andata bene ed è andata molto molto liscia vedete come intensifica bene ed è subito sfumato non crea chiazze non è per niente polveroso io naturalmente i pennelli li sbatto sempre prima di applicare il colore non si sa mai ma veramente non fanno polvere assolutamente questi ombretti ne ho applicato anche troppo di questo ombretto ho pulito il pennello per andare a sfumare l'ho pulito su un panno in microfibra non trovo più il mio di Sonia G cosa che mi fa piuttosto innervosire però sappiate che io sono il disordine fatto a persona quindi spesso non trovo le cose perdo le cose vado a sfumare bene poi i bordi sempre con le tre quello più grande da sfumatura così ho intensificato molto il look precedente adesso voglio applicare questo luminos che si chiama supernova che è un argento con delle perlescenze rosate argentate e lo vado a picchiettare sopra al satinato questo qua pur essendo nello stesso finish di quello presente nella sorcery che io adoro lo trovo un po' meno luminoso rispetto a quello nella sorcery non lo so sarà il colore mi trovo un po' più spento ecco ha un effetto bagnato che è più discreto rispetto a quello della sorcery ecco questo ombretto qua fa un pochino più di fallout rispetto all'altro perché appunto è più luminoso quindi me lo aspetto nella rima superiore interna vado a mettere questa matita qua di Diego Dalla Palma che è un marrone freddo scuro mentre nella rima interna vado con la matita di Lisa Eldridge questo è nel colore Renaissance Gold che è un oro freddo è una matita metallizzata quindi non non opaca non matte mi piace tantissimo e dà una discreta durata di più rispetto ad altre matite devo essere sincera poi vado a prendere il marrone Turbulence non ve l'ho detto prima e lo prendo con questo pennello a penna che è l'E5 che ricorda un po' le no scusate il numero 3 di Ref se non sbaglio sì il numero 3 forse quello di Ref è un pochino più piccolo ma questo funziona altrettanto bene per questi lavori e sfumo il marrone nella rima inferiore e poi vado a prendere di nuovo il satinato e lo metto sempre con l'E4 quindi il pennello d'applicazione nella rima inferiore nella prima parte a riprendere un po' cosa ho fatto sopra ultima cosa angolo interno prendo questo più luminoso che è anche il più chiaro dei due shimmer e lo metto con il pennello a penna appunto nell'angolo interno il pennello a penna l'ho comunque ripulito è bellissimo questo come punto luce e pur essendo particolarmente glitteratino non mi dà quell'effetto che a me non piace di glitterozzi e basta ma invece è omogeneo mi piace un sacco adesso mascara metto questo qua di benefit che non amo più che altro perché sgrana su di me sgrana meno se ne metto solo una passata leggera leggera non è volumizzante allungante più che altro peccato perché l'effetto non mi dispiace anche se non è volumizzante come di solito li ricerco io però però ogni tanto questo effetto più naturale non riesco neanche a parlare più naturale ci sta adesso lascio che si asciughi un attimo e poi ci andrò a mettere sopra il lash dry shampoo di MAC non tanto per un effetto più wow perché si lo dà ma non è per questo che uso il lash dry shampoo ma più che altro perché mi aiuta a farlo sgranare meno molto meno e nel mentre che aspetto che si asciughi il mascara andiamo con l'altro occhio inizio da questo grigio qua e lo applico questa volta con le quattro cioè il pennello da applicazione scusate eccolo lo vado ad applicare all'angolo esterno anche questo pennello da applicazione come quelli di refreo soprattutto il 2 ha una punta che non è sottilissima quindi in punta si riesce a sfumare il colore mentre se lo si usa di piatto è più da applicazione vedete che così il colore è pieno e intenso e con la punta vado a tirare un po' su e all'esterno il colore prendo il pennello da sfumatura più grosso e sfumo i bordi solamente questa volta voglio applicare solamente il colore più luminoso che è supernova e lo applico su tutta la palpebra con il dito trovo che l'abbinata grigio rosa sia stupenda ed è anche la combinazione che mi piace di più nella glam di Natasha Denona questa palette devo dire che me la ricorda abbastanza nei trucchi che poi ne vengono fuori forse anche un po' la Xenon con questo trucco finito voglio solo mettere un po' di nero nella rimacigliare per mettere appunto il nero nella rimacigliare uso questo pennellino qua che il solito pennellino che si utilizza a questo scopo per eyeliner oppure per le sopracciglia che è piccolissimo ed è le 6 forse con il colore applicato ne vedete meglio la forma è piuttosto dritto non è uno di quelli angolati è super piccolo e super preciso lo vado ad usare proprio come fosse una matita vedete com'è preciso cioè sicuramente esistono pennelli altrettanto precisi che non costino così tanto comunque se vi interessano questi pennelli lasciate perdere il sito di Wangos se non volete sorprese con la dogana con la sottoscritta ma aspettate l'evento il gift card event su Beautylish i pennelli di Wangos e tutti i prodotti di Wangos sono anche rivenduti su Beautylish infatti tra l'altro di Wangos dovrebbe uscire tra poco non lo so quando perché ha dato questo annuncio ormai sarà un mese fa questo ha fatto fallout e me lo sono spiattellato su tutto l'occhio comunque aspettate che comunque dovrebbero uscire dei pennelli nuovi di Wangos pennelli che a quanto capito dovrebbero essere con un costo decisamente inferiore questo mamma mia da dove esce tutto ciò questo nero ha fatto fallout perché il pennellino di Wangos questo qua piccolino che ho usato per fare la riga di eyeliner tra virgolette essendo così piccolo adesso vi faccio vedere per prelevare il colore ha fatto un po' di paciugo nella cialda quindi anche se non è un colore polveroso di per sé con questo pennello qua ha sgranato un po' e io non ho sbattuto a sufficienza il pennello ecco questa cosa non mi era ancora successa va bene vado poi sempre nella rima interna superiore con la matita di Diego della Palma che è un marrone scuro freddo ci andrebbe il nero qua ma non so dove è finita la mia matita nera di Charlotte che sta finendo e non ne voglio iniziare un'altra prima che sia finita lei nella rima inferiore da questa parte metto invece questa matita di Chanel questa fa parte della collezione style ricordate 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 sempre che io non so francese comunque io occhi waterproof ed è nel colore 30 marine è un blu scuro che a me piace particolarmente non è eccessivamente pigmentata è vero però è molto elegante come blu e nell'angolo interno vado con lo stesso colore che ho applicato prima dall'altra parte e su tutta la palpebra che è quello più luminoso adesso metto il mascara anche da questa parte poi applico il dry shampoo e ci vediamo dopo ho applicato il mascara pulito un po' qua sotto cosa sono riuscita poi tanto c'è il correttore comunque adesso andiamo con il fondotinta applico quello di Lisa Eldridge il seamless skin tanto per restare in tema questo un poco non lo uso perché non è nel mio colore è il colore 10 a mia discolpa quando l'ho scelto io mi sono basata soprattutto sul video di Lisa Eldridge e lei cioè è molto chiara vista in video e applicava il numero 11 quindi io ho solo cambiato mi pare il sottotono perciò lo vado a miscelare con questo correttore che è un correttore bianco di Mina Treina come si chiama ne applico una goccia vediamo perché ho messo una goccia di fondotinta la cosa bella di questo fondotinta oltre al resto è che ne esce pochissimo con un pump e io visto che ne applico molto poco per me va benissimo allora l'ho un po' schiarito appunto con il correttore di Mina lo vado ad applicare prima con le dita sul viso e poi lo stendo con questo pennello questo è l'f4 sempre di Wengos è un pennello da fondotinta piatto tagliato piatto tagliato e sbagliato il termine tagliato per questi pennelli giapponesi è sbagliato perché i pennelli giapponesi non vengono cioè almeno le setole non vengono tagliate ma vengono solo posizionate ed è la cosa principale che distingue questi pennelli dagli altri applica benissimo il fondotinta neanche a dirlo dopodichè io continuo a preferire i pennelli in setole sintetiche per il fondotinta solo per una questione di igiene perché questi con le setole naturali io vi ricordo che andrebbero lavati una volta al mese una volta al mese si presuppone che però vengano usati tutti i giorni e poi puliti su questi pannetti di microfibra e sto ancora pensando al mio di sogniaggi dove è finito però lo troverò prima o poi comunque questo fondotinta a me piace ha un finish su di me naturale ah non vi ho detto non ho applicato il primer cosa che con questo fondotinta per me è fondamentale perché tanto il trucco appunto non deve durare e quindi almeno salto questo passaggio è un fondotinta da finish naturale che può essere modulato in base a cosa si applica sotto oppure se si vuole alleggerire la coprenza che comunque è medio-bassa si può mischiare con una crema colorata la cosa principale di questo fondotinta però è il colore che è altamente stabilizzato cioè non non si scurisce non ossida non lo trovo un fondotinta che vada ad enfatizzare rughette o pori assolutamente no poi quello che Lisa Eldridge consiglia di fare per aumentare il fatto di essere soft focus e di andarlo a premere le dice con le dita io dopo lo farò semplicemente con la blender usando questo correttore di colore riesco ad usarlo infatti adesso l'ho mischiato però sono a questo livello quindi l'ho usato parecchio non lo sto usando tanto ultimamente perché sono estremamente di fretta il fatto di doverlo sempre miscelare mi allunga i tempi io ne ho messo poco perché sapete che non ricerco una coprenza altissima anche se ne avrei bisogno in questo periodo la mia pelle sta facendo le bizze non so cosa sia stato non so se è stato il blush di Hermes Beauty non so se è stato il fondotinta di Houselabs che sto testando ma qualcosa è stato anche perché mi sono comparse delle macchie solo macchie sul collo che prudono non so cosa sia è leggermente più opaco questo fondotinta su di me all'inizio però poi durante la giornata diventa un finish naturale l'unica cosa che appunto per durare ho bisogno del primer come correttore vado ad usare questo qua di Natasha Denona la Glam Concealer nel colore N2 soprattutto viste le mie occhiaie uso sempre il pennello da fondotinta potrei usarne altri del set come vi ho detto quello che ho usato per applicare l'ombretto su tutta la palpebra potrebbe anche essere usato come pennello da precisione per il correttore poi in realtà ce n'è anche un altro che è questo qua che mi renderebbe le cose più facili che è l'E1 quindi sempre ho pennello occhi che è perfetto per il correttore l'ho già usato funziona benissimo però anche qua vale lo stesso discorso che vale per tutti gli altri i pennelli con cui uso le creme preferisco quelli in setole sintetiche la cipria la applico dopo adesso vado ad applicare il blush che è questo qua di Hermes Beauty ha questo packaging in plastica bianca non è che mi faccia proprio impazzire ha sì lo specchio è anche ricaricabile volendo anche su Sephora vendono solo le ricariche del blush questo nella colorazione French Rosé ed è un blush in gel to powder infatti anche la consistenza è piuttosto strana e questa sua consistenza è dovuta al fatto che è fatto con lo zucchero zucchero e oli tra cui olio di burriti olio di jojoba e però purtroppo anche derivati dell'olio di cocco che sono quelli che mi preoccupano per quanto riguarda la mia pelle però lasciando stare la reazione della mia pelle è un bellissimo blush , bellissimo blush a lunga tenuta modulabile si modula molto molto facilmente io ero convinta vista la sua texture che fosse un blush difficile da prelevare invece assolutamente no oggi vado ad usare questo qua che è sempre di Wengos che è l'F1 ricorda un po' come forma l'F5 sì l'F5 il numero 5 di Ref l'unica cosa adesso spero di riuscire a far vedere che da questa parte è dritto mentre da quest'altra parte qua è tagliato in modo scalare mentre quello di Ref è scalare su entrambe le parti sembra con un po' meno setole di quello di Ref sembra più morbido più morbido sì perché come vi ho detto le setole sono diverse rispetto a quello di Ref comunque vedete che preleva lo stesso anche se non è così denso di setole soprattutto in punta e questo fatto di non essere così denso di setole in punta lo rende anche perfetto per i blush molto pigmentati questo blush viene definito modulabile e lo è però come vedete la pigmentazione c'è da subito poi si si sfuma benissimo e si può appunto stratificare ve l'ho detto pensavo che questo blush fosse di difficile prelemamento ma non è assolutamente così tant'è che forse mi piace anche di più con pennelli che che prelevano meno prodotto rispetto a questo di qua lo ne ho prelevato meno e si vede va su meglio però lo intensifico facilmente e non ha fatto assolutamente macchia comunque è un blush tridimensionale non è per niente opaco ma non va a enfatizzare la texture della pelle assolutamente è un blush decisamente luminoso però è una bellissima luminosità non ha glitter non ha per le scienze evidenti il colore mi piace tanto se e credo che ci metterò un po' a capirlo però se non mi dovesse dare particolari problemi io vorrei prenderne almeno un'altra colorazione che kirk royal poi ce ne sono altre in realtà che mi piacciono però vorrei soprattutto kirk royal visto dal pan sembra meno freddo di quello che poi risulta sul viso dal pan sembra avere quasi delle perlescenze dorate mentre sul viso io lo trovo più freddo cosa che mi piace poi vado ad aggiungere un po' di bronzer ho messo prima il blush solo per farvi vedere meglio il colore come potete vedere non so se si vede non c'è più la patina però si vede che è stata grattata la superficie e vado ad utilizzare questo pennello qua che è invece l'f3 ed è un pennello a fiamma piuttosto cicciotto io con questo ci ho fatto un'intera full face prima o poi la farò anche in camera comunque l'ho dovuto scaricare un po' il pennello perché avendo grattato la cialda sono rimasti residui in superficie quindi devo scaricare con questo pennello si può fare tutto si può mettere il fondotinta si può mettere il correttore si può mettere la cipria il blush tutto forse non un blush tanto pigmentato ecco perché è tanto denso però in punta se si usa la punta si riesce a calibrare bene il colore vado poi a mettere un po' di cipria sia sul contornocchi che su tutto il viso uso lei tanto ve l'ho detto oggi devo stare in casa a me non dispiace sul contornocchi all'inizio però poi durante la giornata mi secca e quindi mi segna e sul contornocchi la vado a mettere con questo pennello qua che è l'F5 questo è il pennello più particolare per quanto riguarda i pennelli viso e che secondo me merita di più di questo set gli altri due che secondo me meritano tanto sono i due da sfumatura per gli occhi non dico che gli altri non valgano assolutamente sono stupendi funzionano benissimo però questi due questi tre sono secondo me i più particolari questo pennello io lo adoro perché applica una quantità infinitesimale infinitesimale di cipria non si corre mai il rischio di esagerare e visto che mi sono dimenticata di prendere il mio puff quello di lisa per applicare la cipria vado a metterla con il pennello F3 quello con cui ho applicato il bronzer io la metto praticamente solo sulla zona T e poi faccio un po' di buffing tecnique sui bordi del blush del bronzer e poi ci vado leggermente sopra quindi anche se ho esagerato un po' con i colori così la situazione torna alla normalità scusate postino comunque col viso finito non faccio nulla di più comunque adesso sulle labbra voglio andare ad applicare due prodotti di lisa eldridge che avete visto negli haul ho un sacco di prodotti labbra nuovi da farvi vedere però appunto essendo video su lisa eldridge teniamoci su dei lei innanzitutto questo rossetto qua che è nel finish through velvet cioè matte questo è nel colore sorcery è uscito appunto insieme alle palettes anche lui è andato subito sold out lo ritenevo un po' troppo scuro per i miei gusti poi invece l'ho visto applicato e mi piaceva tantissimo naturalmente io l'ho visto applicato su una persona che ha la pelle molto più scura di me che Alice ah scusate Alicia Archer su di lei è bellissimo è un nude rosato su di me è un marrone scuro rosato questa è la matita questo rossetto volevo farvelo vedere insieme a velvet muse velvet muse è leggermente più chiaro anche lui è un rosato quasi marroncino però vedete che è più chiaro questo sorcery e questo velvet muse metto prima la matita che tanto è nella stessa colorazione anche se Lisa Eldridge dice che le matite sono leggermente più scure dei rossetti le matite di Lisa Eldridge me ne ho già parlato a sufficienza sono morbide sono cremose sono ultra pigmentate però poi si fissano e stanno lì tutto il giorno tant'è che la matita rimane e il rossetto va via questo comunque è il rossetto bellissimo bellissimo ma scuro super pigmentato levigante morbido ha questo effetto velluto che si vede anche dal pan a me i rossetti matt di Lisa Eldridge piacciono un sacco sono i miei preferiti ritengo comunque che un po' vadano a seccare nell'arco della giornata all'inizio no sono ultra confortevoli poi nell'arco della giornata io li sento dopodiché continuano a rimanere i miei preferiti e soprattutto ha dei colori che mi piacciono tantissimo io ne ho pochi c'è il gatto che rompe di nuovo vabbè scusate io ne ho pochi però mi piacerebbe prenderne anche qualche altra colorazione comunque vedete che su di me è bello scuro forse con questo trucco c'entra niente però mi piace tantissimo e io lo sto utilizzando parecchio però con le dovute accortezze ecco magari non durante una giornata lunga un look occhi un po' più soft non che oggi sia così intenso il look occhi comunque mi piacciono entrambi i look occhi il blush lo adoro aspetto a dirvi se mi fa uscire qualcosa tra l'altro è veramente durevole dura parecchio durante tutto il giorno ma soprattutto cosa stupenda per un blush luminoso non enfatizza assolutamente pori secchezze no è proprio proprio bello luminoso ma senza shimmer stupendo e poi i colori wow scusate c'è il gatto che sta facendo il pazzo continuo allora poi ho dovuto aprirle perché svegliava tutto il palazzo invece per quanto riguarda le palettes anzi la palette vega bellissima palette per chi ama i toni neutri neutro freddi look molto semplice anche questo più luminoso non va per niente a enfatizzare la palpebra è un colore che si abbina benissimo sia al marrone che al nero che soprattutto al grigio perché a me ve l'ho detto questa abbinata grigio rosa fa impazzire motivo per cui amo la Xenon trovo che si riescano a fare dei look simili anche alla Glam sempre di Natasha Denona però qua gli shimmer a me durano non come io ho problemi soprattutto con la Glam con la Xenon no con la Glam si soprattutto per quanto riguarda questo colore qua che trovo paragonabile a luminosità ai metallici della Denona forse un pochino più luminoso comunque lui dura i metallici della Denona no sul mio occhio il finish dei matt bellissimo facilmente sfumabili ricorda parecchio quello delle mini clouch di Yves Saint Laurent con cui è stato messo a paragone motivo per cui ho voluto provare queste palette perché dicevano che la texture dei matt ricordasse quelle palette quindi ci sono cascata anche per questo motivo però rispetto ad esempio alla sorcery che è questa qua appunto sul verde questa ha degli shimmer a parte questo qua che è nel finish luminous che si trova anche nella vega gli altri invece hanno in questa palette un finish più luminoso infatti questi sono dei metallic mentre nella vega l'altro colore oltre al luminous è un satin metallic quindi un po' meno luminoso pigmentato ma un po' meno luminoso e forse anche per questa ragione continuo a preferire lei perché è più luminosa nel tutto sono due palette totalmente diverse questa un po' più divertente ha dei verdi intensi mentre quella con quella si ottengono look tranquilli ecco però tra le due la più particolare rimane e anche la più performante per quanto riguarda gli shimmer rimane comunque la sorcery dopodichè sono contenta di averle entrambe sulla mit che è quella violace appunto ho sempre delle riserve perché so che gli shimmer non sono così belli come in queste due e quindi è quello che mi frena però i colori mi piacciono parecchio io adesso smetto di parlare anche perché mi sta venendo a soffiarmi il naso e avrei voluto che questo trucco durasse almeno tutto il video quindi grazie come sempre della compagnia dei commenti dell'affetto e anche tutte quelle persone che mi hanno chiesto dove fossi finita come stessi come vedete non benissimo però ci riprendiamo niente basta ma non smettere di parlare io vi saluto e spero di vedervi nel prossimo video alla prossima ciao